Buongiorno, sono Matteo di Gruppo Carmelie e oggi ti presento direttamente dal nostro nuovo Polo Outlet di Coccaio, la Ford Puma 1500 Diesel Eco Blue ST Line X da 120 CV. All'esterno, insieme alle linee sportive, troviamo di serie cerchi in lega da 18 pollici, barre longitudinali di colore nero che richiamano il cerchio stesso, faro full LED anteriore e posteriore, fendinebbia a LED e sensori di parcheggio posteriori. All'interno, dove le cuciture rosse fanno da cornice, troviamo accessori importanti e di ultima generazione, come il cruscotto digitale da 12,3 pollici, il touchscreen da 8 pollici con navigatore satellitare, il caricatore wireless per smartphone di ultima generazione e impianto stereo B e O. Appena ci mettiamo alla guida, troviamo il sensore luce, ampi e chiari comandi al volante per cui scontroll e gestione e funzionalità della radio, il sensore pioggia e l'apposito tasto di avviamento. Nella parte centrale, insieme al climatizzatore automatico, troviamo un pratico ingresso USB, una presa da 12 volt e un comodo bracciolo con ampio vano portoggetti. Disponibili in diversi colori e anche nella versione mild hybrid con motore 1000 da 125 cavalli, la Ford Puma con i suoi 4,18 metri unisce il concetto di sportività e design, non rinunciando allo spazio interno, dove grazie ai 456 litri di bagagliaio si porta ai vertici della categoria. Se ti è piaciuto il video lascia un commento qui sotto o chiamaci allo 030 77 24 011, i nostri consulenti saranno a tua disposizione.